Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi uno dei tanti modi in cui si può utilizzare il gel polish blossom, un prodotto che vi permette di creare decorazioni di effetto in modo molto semplice e veloce. Ho prima ricostruito il mio indice con display form 10 e expert one, definito l'unghia, stendo il blossom clear su tutta la superficie. Con un pennello 9 mm e gel polish must have 01 inizio la mia decorazione. Creo il bocciolo di quella che sarà la mia rosa. Per realizzare i petali deposito una goccia di polish e con il pennello sfioro e trascino il colore dal centro verso destra e verso sinistra, in modo da creare quasi un abbraccio intorno al bocciolo. Continuo così incastrando i petali tra di loro fino a ricoprire tutta la superficie dell'unghia. Mentre lavoro i petali si allargano e il fiore prende forma grazie all'effetto che crea gel polish blossom. La sua caratteristica è proprio quella di creare nell'art simile a querello e quindi di sfumare tutto quello che noi vi depositiamo. Grazie al blossom potremo creare nell'art velocissime, semplici ma di grande effetto, ideali per i tempi da salone. Continuo così fino a che la superficie dell'unghia non è completa. Attendo qualche secondo che la mia rosa prenda forma e vado in lampada per 30 secondi. Sigillo con mattop e questo è il risultato finale. Spero vi piaccia, al prossimo video!